Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto. Il mio aiuto è il Signore, che ha fatto cielo e terra giuste verso le sue vie. O re delle genti, non lascerà vacillare il tuo piede. Non si attormenterà il tuo custode, non prende il sonno. Il custode di Israele, il Signore, è il tuo custode. Il Signore è come ombra che ti copre. Alzo gli occhi e sperimento l'aiuto del Signore. Il più delle volte non riusciamo a vedere l'aiuto del Signore, perché i nostri occhi sono rivolti verso il basso. Concentrati sul nostro guaio, alla ricerca di una soluzione, con le nostre forze, non vediamo la sua mano che si posa su di noi. E così non la possiamo afferrare. Ricordate Caino? Rispose a Dio, che gli domandava dove fosse Abele, che lui aveva ucciso. Sono forse il custode di mio fratello? Caino, l'omicida, ricordava a Dio questa frase del Salmo. Il Signore è il mio custode. E accusa Dio e gli dice Sono forse il custode di mio fratello? Cioè, dove eri tu mentre io uccidevo Abele? Perché non lo hai difeso, tu che sei il suo custode? Dove eri tu mentre io stendevo la mano? Non hai forse detto che non sarebbe vacillato il suo piede? Eppure ti sei addormentato mentre io lo uccidevo. Neppure le grandi potenze del sole e della luna avranno potere con chi si affida nelle mani dell'Altissimo. Quanto meno potrà fare del male un esercito di uomini, un branco di assassini o una ciurma di potenti. Ma come fa a proteggermi il Signore se tante volte abbiamo visto il giusto perire persino il suo fedele figlio? E' vero questo Salmo? O è menzogna? Eppure, se domandassimo allo stesso figlio di Dio sulla croce se questa parola è vera egli risponderebbe senza alcun dubbio che lo è. Com'è possibile? Quanta pace dai, o Signore, ai tuoi servi ai tuoi figli dentro la tribolazione sopportata per tuo amore? Com'è possibile? Che il giusto sulla croce dica che è vero che tu sei il custode di Israele ma quanta pace dai, o Signore ai tuoi servi ai tuoi figli anche dentro la tribolazione sopportata per tuo amore? Donaci la grazia di fare il tuo volere perché anche noi vogliamo sperimentare personalmente che questa parola è vera vogliamo convincere il nostro cuore che di noi ha cura il Signore il mio aiuto è nel Signore che ha fatto cielo e terra giusto e vero sulle sue vie non lasciarà il tuo cuore non lasciarà vacillare il tuo piede non si attormenterà il tuo custode Lui prende il sogno, il custode di Israele, il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre. Il Signore è il tuo custode, il Signore è il tuo cuore.